Ciao a tutti ragazzi! Ve la ricordate? La mia coniglietta piuma? Oggi è arrivata la sua nuova casa! Siete! Non vi sembra un castello? Questo è il cassetto del puglio. E ora andiamo a prendere piuma. Prima però vi portiamo un po' di erbetta fresca. Ora andiamo da piuma. Ecco piuma. Non è come ve la ricordate. È molto più ciccione. Ultimamente sta mangiando in continuazione. Piuma, saluta i ragazzi! Vi ha salutato. Adesso lo portiamo nella sua nuova casa. La mia coniglia è una nuova casa. Speriamo che le piace la sua casa. E' la mia coniglia. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto, mettete un mi piace se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al mio canale e ciao ciao da Leonardo di Piuma Grazie a tutti